ospiti speciali della serata finale di una voce per san marino i mio dio che però voi avete preso il vizio è uno spettacolo fantastico un panorama un palcoscenico incredibile quindi noi ci troviamo sempre bene e ci piace stare qui al teatro nuovo di dogana con tutti voi fantastico mi piace questa che poi abbiamo un brutto ci incontriamo sempre alla vigilia di interbologna la parte calcistica magari teniamola fuori la facciamo dopo a microfoni spenti che è meglio perché è sempre meglio sul palco proponete complice che è la canzone che vi ha portato all'eurovision song contest nel 2008 quindi una canzone che ha 15 anni cosa fa quest'anno la seconda superiore sì ormai si sta avvicinando proprio alla patente e quindi è sempre sempre bellissimo sempre bellissimo ritornare qua risuonarla tutti insieme perché comunque è stato un brano che ha segnato una parte importante importantissima della nostra carriera musicale e riproporla poi a san marino e in qualche cosa in più noi a belgrado siamo stati primi ad aver portato la bandiera bianca azzurra sul palco dell'eurovisione e ci fa piacere farla qua davanti al nostro pubblico e nel nostro teatro tu sei consapevole che mi hai bruciato l'altra domanda che volevo chiederti se l'adrenalina era la stessa tutto avevo preparato tutto una filipica sei proprio un interista senti presentiamo anche gli altri componenti della band io direi di non so se li presento io così no chitarrista fantastico paolo macina a tutti nostro maestro francesco sancisi ciao a tutti batterista grandissimo giano buonasera e il nostro bassista the bass man polli ciao ragazzi non mi ricordo chi sei tu invece io sono nicola ecco infatti nico nico dei mio odio sono ecco nico dei mio ragazzi in bocca al lupo sarà una cosa meravigliosa anche perché ci riportate indietro e ci riportate a quella serata fantastica dell'eurovision ci fate un saluto agli amici di radio san marino allora tutti gli amici di radio san marino un grande saluto dai mi odio ciao ciao bucca al lupo ciao ragazzi